Parlare di matematica in un video è il modo migliore per perdere followers, ma vi chiedo di restare incollati perché questa è una storia ancor più affascinante di quelle che trovate su Netflix. Pierre de Fermat, vissuto nel 1600, era un giudice francese, appassionato di matematica, un brillante matematico e mentre studiava il libro secondo dell'aritmetica di Diofante si appuntò a margine del testo con la penna la seguente equazione x alla n più y alla n uguale a z alla n indicando che questa equazione è impossibile da risolvere se n è maggiore di 2. Resistete, vi prego non scappate, credetemi. Ora facciamo un passo indietro, prendiamo questa equazione, torniamo alle elementari. Se n è uguale a 2 abbiamo x quadro più y quadro uguale a z quadro, il semplicissimo teorema di Pitagora, molto più rassicurante, vero? Ora, Fermat ci dice che se n, l'esponente, è maggiore di 2 questa equazione non può essere risolta e, ancor peggio, appunta sempre a margine del testo, come facciamo noi a scuola, ok, o nei nostri appunti, di aver trovato una semplice brillante dimostrazione per questo teorema che però non include per motivi di spazio. Ponto. Nei 500 anni successivi i migliori matematici della storia si sono cimentati in questa sfida e nessuno ci è riuscito. Vedete, per noi, per la maggior parte di tutti noi, la matematica è una sorta di incubo lontano, fortunatamente, legato al mondo scolastico, ma più che mai oggi la matematica è alla base dei migliori software, della comunicazione cellulare, della navigazione satellitare, della trasmissione di dati e di migliaia e di migliaia di applicazioni delle quali noi beneficiamo solo dei risultati, ma all'interno di quali la matematica è un po' come l'aria. Nessuno si pone il problema, tranne quando manca, e in realtà è dappertutto. Ok, torniamo alla nostra sfida. Un'affermazione di questo tipo non poteva restare inosservata, a maggior ragione che così tante centinaia di brillanti scienziati e matematici ci si sono confrontati fallendo misuramente. Avviciniamoci ai nostri tempi. Negli anni Ottanta, un brillante matematico inglese, Andrew Wiles, inizia a cimentarsi, come molti altri colleghi, con questa sfida. Ne leggi, scopre e, peraltro, comincia a applicare tecniche matematiche molto più moderne di quelle che, ovviamente, era Fermat e anche i primi calcolatori elettronici. Questa sfida diventa talmente appassionante per Wiles che, dal 1990 al 1997, ci si dedica interamente, dalla mattina alla sera. È il suo unico scopo di ricerca. Nel 1997 Andrew Wiles annuncia alla comunità scientifica, alla comunità matematica, di aver risolto il teorema di Fermat. Lo presenta, ma come nei migliori gialli, non si accorge che, annidato nella sua dimostrazione, c'è un piccolo errore. Panico. Per una serie di mesi, Wiles si chiude ancora di più con i suoi migliori discepoli, allievi, per riuscire a risolvere questo errore. E nel 1998 ci riesce. Torna alla carica e dimostra di essere stato in grado di aver risolto l'annoso teorema di Fermat. Nel 1998 riceve il premio Nobel per la matematica, ovviamente meritatissimo. In perfetto stile Netflix, mentre i buoni si abbracciano, il mostro è stato ucciso. Sapete, la classica scendova, la telecamera si allontana e c'è la festa. Vi devo raccontare che però c'è un problema. Vedete, Fermat nelle sue note a margine scrisse ho trovato una brillante e semplice dimostrazione di questo teorema, ma la dimostrazione di Wiles è 200 pagine fittamente scritte, che poi in realtà sono state semplificate e ridotte a 130. Ora, la domanda è, questa non può essere definita una dimostrazione semplice, senza contare che Wiles ha utilizzato delle tecniche di risoluzione matematica che nel 600 non esistevano nemmeno. Quindi, ha ferma mentito, ma per chi avrebbe dovuto ha tirato fuori lui la questione, c'è forse nell'universo matematico lì fuori un'altra davvero semplice dimostrazione citata e non riportata da Fermat. Quindi, il giallo, il mistero ovviamente è ancora aperto. E siccome l'auspicio è che questa sfida, questo tema vi possa appassionare, anche se non siete dei matematici, come ne lo sono io, mi permetto di consigliarvi il libro di Simon Singh, L'ultimo teorema di Fermat, che davvero non è un libro di matematica, ma è un manifesto alla capacità di essere determinati, rossoluti, dedicare la propria esistenza a una sfida più alta, ma scritto in una maniera talmente coinvolgente, davvero non ha detto ai lavori, quindi mi permetto assolutamente di consigliarvelo. Quindi, detto questo, il nostro primo Sparks matematico, speriamo che non ci faccia perdere troppo followers, comunque ci vediamo la settimana prossima.